Ci troviamo in Times Square. Vorrei fare un esperimento. Inizierà fra poco. C'è un freddo però è più forte di me. Fra qualche minuto inizierà questo esperimento proprio da Times Square. L'esperimento consiste nel capire finalmente se i buri sono conosciuti in America. Allora adesso mi preparo per questo grande esperimento. Lo scopriremo tra l'ombra un po'. Ok, diamo inizio a questo esperimento. Vediamo che cosa tagliamo. Non è stare chiuso qui! Forse non ho cantato Davilo. Forse non abbiamo sentito. Proviamo ancora. Non è stare chiuso qui! Succede nulla. Nulla. No. Purtroppo i buri in America non sono conosciuti. Dovremmo provvedere. Purtroppo Davilo lo dobbiamo dire forse. In America non è successo. Sono molto più speciale. Passo. È... Come... Grazie.